Ma stiamo così, questo brano lo dedico a tutti quanti, da parte anche il Gioi, vi ringrazio e che assoluta la direzione, vi ringrazio la direzione che non c'è questa sera, tutti i ragazzi, questo posto che ci vuole bene, non vogliamo, e soprattutto a voi che siete stanno incontrando, grazie, grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.